Era nata come una serata tra amici, poi l'alcol ha cambiato drasticamente le cose. Tre uomini di nazionalità romena sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. I fatti risalgono alla notte del 5 febbraio. I tre, tutti pregiudicati ed età comprese tra i 36 e i 44 anni, organizzano una festa a casa di uno di loro a bereguardo. Nell'abitazione c'è anche una donna, una 35enne di origine ucraina, che non risulta essere legata sentimentalmente a nessuno di loro. Nel corso della serata gli uomini bevono molto. Una discussione si trasforma in una lite e i tre uomini vengono improvvisamente alle mani. Al termine della rissa, però, senza un apparente motivo, si scagliano tutti e tre contro la 35enne. La prendono a pugni e calci e poi cercano anche di violentarla. La donna riesce però a scappare dall'appartamento e ad avvisare le forze dell'ordine. I carabinieri arrivano sul posto in pochi minuti e arrestano i pregiudicati in flagranza di reato. Dopo le verifiche del caso, i tre vengono portati in carcere a Torre del Gallo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La 35enne è stata invece in seguito trasportata in ambulanza al pronto soccorso del San Matteo. Ha riportato la frattura del naso e di alcune costole ed è stata in seguito dimessa, con una prognosi di 30 giorni.